Cesare Damiano, allora lo invito qui al podio, caro Cesare, che parlerà ovviamente nel ruolo attuale di consigliere d'amministrazione di INAIL, ma con la grande esperienza e il grande bagaglio di ministro del lavoro e anche di sindacalista. Ciao. Bene, anch'io ringrazio per l'invito, saluto tutte e tutti. Naturalmente vorrei stare sul pratico, perché come ha detto Sbarra, contano le cose che si fanno. Io sono stato il ministro, insieme a Livia Turco, che ha fatto in articolo mortis, perché era l'8 di aprile, il decreto 81. Ora, è stato ricordato come quel decreto abbia rappresentato una svolta sul tema della salute e sicurezza. Non era semplicemente un elenco delle leggi precedenti stratificate, quella buona precedente, la 626, la voglio ricordare, ma è stato un tentativo, riuscito a mio avviso, con i suoi difetti, di concertare. A quel tavolo c'erano le parti datoriali e sindacali in rappresentanza delle imprese del lavoro. Ed è uscito un testo che ha dato un indirizzo. Statisticamente, parlando, anche se è vero, le statistiche sono fredde, bisogna ricordare un dato. Se noi torniamo ai lontani anni 60, 60-61, quando l'Italia viveva il boom dell'economia, le cronache ci dicono che in quel tempo ogni giorno morivano 10-11 persone sul lavoro. E' durata lungo quella situazione. Poi lentamente l'iniziativa sindacale, l'intervento tecnologico, la lungimiranza di determinate imprese hanno prodotto dei cambiamenti importanti. E quella curva lentamente, parlo sempre di statistiche fredde, da 10-11 è scesa a 5. Eravamo nel 2008. Io ricordo nel 2008 ThyssenKrupp, Campello sul Clitunno, dove scoppiò quella cisterna per una saldatura fatta su una cisterna piena di olio minerale. E ricordo la moral suasion che ha richiamato Andrea del presidente dell'epoca, Giorgio Napolitano, che mi chiamava, non dico tutti i giorni, per dire a che punto siamo. E se negli anni Sessanta di morti sul lavoro non si poteva parlare, io vedo un episodio, ero bambino, avevo 12 anni, c'era canzonissima, questa lo dico per gli stranieri, trasmissione popolare alla televisione, condotta da Dario Faux e Franca Rame. Fecero uno sketch dedicato alle morti sul lavoro. Furono sospesi dalla trasmissione. Pensate dal 1960 al 2008 che salto. Cacciati perché parlavano di lavoro, un presidente della Repubblica, Napolitano e oggi Mattarella, che insistono sulla priorità di salvaguardare le persone e la loro integrità psicofisica nei luoghi di lavoro. Di strada ne è stata fatta. Ma siamo a quello zoccolo duro, a quel blocco, a quei tre morti inaccettabili sul lavoro che le cronache registrano tutti i giorni. E sembra che da quel dato non si riesca a scendere. Ma molto è stato fatto. Di recente, Gigi lo ricordava, io credo che vada dato un plauso alle parti sociali, quei protocolli per il Covid, per il contrasto al Covid che sono stati siglati per corretti comportamenti nei luoghi di lavoro, sono stati di un'efficacia straordinaria. Hanno salvato vite umane. Hanno dato ordine ad una situazione nella quale molti predicavano i liberi tutti. L'ultimo governo, penso all'imposizione nei cantieri dell'edilizia, del contratto dell'edilizia, se l'appalto è superiore ai 70.000 euro, qualche passo è stato fatto, l'assunzione di 1.000 ispettori. Ma sembra che questi passi non riescano a fermare questa strage quotidiana. E allora qual è la questione? La questione è questa. Non c'è dubbio che quando c'è una ripresa dell'economia, e nel 2021 c'è stato un rimbalzo, avevamo perso nel 2020 10 punti di prodotto interno lordo, l'anno successivo ne abbiamo recuperati 6, quest'anno dovremmo recuperarne 3. Pareggiamo più o meno il conto. Il prossimo anno andiamo a 0. Forse c'è il rischio addirittura di recessione per quanto riguarda l'Italia. Quando c'è questo rimbalzo economico, purtroppo al rimbalzo economico corrisponde un rimbalzo di morti, feriti, malattie professionali. C'è un allentamento. Il boom dell'edilizia, questo bonus del 110%, che ha sicuramente messo carburante in un settore di traino, ha provocato anche degli effetti controproducenti. Sono quotidiane le denunce, ma io ho visto sotto casa mia quell'impalcatura con gli operai senza il casco, senza l'imbragatura, con le pedule ai piedi come se andassero in spiaggia. E quindi un allentamento, accanto alla ripresa dell'economia, provoca queste situazioni. E allora, che cosa fare? Come fare un salto di qualità? Voi siete in un settore attento. Quando parliamo di pulizie, dobbiamo anche narrare la complessità di un settore come il vostro, perché non possiamo soltanto pensare all'antica pulizia, spolvero, la scrivania dell'ufficio. Qui stiamo parlando di una situazione estremamente complessa, con un indotto importante. Qui siamo passati dalle pulizie normali, alle pulizie tecniche, alle pulizie esperte, alle pulizie specialistiche, alla sanificazione, che è un elemento fondamentale, soprattutto a seguito di quella che è stata la pandemia, e in una situazione nella quale io prevedo, senza essere uno scienziato, e non pretendo di poterlo essere, che le pandemie ci accompagneranno. Non ce le togliamo di torno. Sono intelligenti. Si mutano, si moltiplicano, si adattano. C'è una novità. I vaccini. Io ho fatto il Covid prima dei vaccini. Non lo auguro a nessuno. Sono stato allo Spallanzane, ricoverato. Me la sono vista brutta. Polmonite bilaterale. Adesso ho quattro vaccini. Spero che non mi capiti più. Me lo auguro. Ma soprattutto capisco la differenza. E quindi la sanificazione, la sanificazione dell'aula scolastica, la sanificazione dell'ambiente ospedaliero, della fabbrica, fa parte di un valore aggiunto, di una filiera che può diventare da elementare a filiera esperta. E può richiedere, come richiedete voi, la trasparenza anche nell'adozione dei contratti di lavoro. Perché ci sono troppe cooperative spurie, cooperative che sotto la denominazione di cooperativa sociale in realtà hanno l'unico obiettivo di fare una concorrenza sleale alle aziende trasparenti che applicano le giuste contrattazioni. Quindi noi siamo di fronte alla necessità di fare un salto in qualità. Io sono il Consiglio di Amministrazione dell'INA e il Pro Bono. Lo faccio come servitore dello Stato. Questa è stata la mia caratura per tutta la vita. È un argomento, quello che l'INAIL tratta, che fa parte della mia cultura. E i dati sono feroci. Nei primi otto mesi di quest'anno, rispetto all'anno scorso, gli incidenti non mortali aumentano il 37%. Le malattie professionali del 7%. Poi se leggiamo gli incidenti mortali, meno 13%. Allora andiamo bene. No. Perché lì dentro ci sono i morti da Covid. Perché sapete che quando è stato recuperato l'infortunio, se tu contrai la malattia, puoi avere, come si dice, un esito favorevole, un esito mortale, sei contabilizzato nella statistica dell'INAIL. E se voi togliete i morti da Covid, che sono stati 199 negli otto mesi dell'anno scorso e appena 14 nei primi otto mesi di quest'anno, i morti sul lavoro, in itinere e nel luogo di lavoro, aumentano del 16% quest'anno. Quindi è un dato allarmante. Che cosa ha fatto l'INAIL? L'INAIL ha promosso tutta una serie di iniziative. Vi ricordo che tra il 2010 e il 2020, in dieci anni, abbiamo erogato come sostegno alle imprese che hanno presentato dei piani certificati di innovazione sotto il terreno, sotto il profilo della innovazione, degli impianti, dei macchinari, quasi 3 miliardi di euro. Di recente, l'altro giorno, ho presentato un bando sottoscritto con le parti sociali di 14 milioni per la formazione aggiuntiva, oltre a quello che la legge prevede. E poi ci sono le convenzioni che noi abbiamo fatto. Le convenzioni con ferrovie dello Stato, le convenzioni con gli aeroporti di Roma, le convenzioni con autostrade, le convenzioni con l'ordine degli ingegneri per la progettazione. C'è una convenzione in corso, mi hanno detto di citarla con Confimi e con Affidamp per quanto riguarda la sanificazione. che scopo hanno queste convenzioni? Ad esempio, ferrovie dello Stato, ci saranno investimenti colossali, l'alta velocità, le reti locali, miliardarie saranno queste iniziative. E allora abbiamo progettato il cantiere digitale, vuol dire l'utilizzo della digitalizzazione e i fini della prevenzione. Cioè l'utilizzo della ricerca digitale per fermare le morti sul lavoro, gli incidenti sul lavoro. In che modo? Utilizzando, ad esempio, il recinto digitale del cantiere. Col microchip d'accesso entrano quelli che hanno il contratto dell'edilizia, non il contratto del florovivaista, come capita, o del commercio, perché costa di meno, perché non c'è la sicurezza e perché non ci sono determinate prevenzioni tipiche del lavoro dell'edilizia. Il microchip nel casco, il microchip nell'imbragatura, il microchip nei guanti di protezione, nelle scarpe antinfortunistiche, che rileva nel caso in cui il lavoratore non adotti quella misura prevista, non possa lavorare. Viene fermato il lavoro, si interviene, si identifica, non è il grande fratello. È l'utilizzo saggio della tecnologia e i fini della prevenzione. L'utilizzo saggio della ricerca. Noi abbiamo il centro di Budrio, che è quello che ha realizzato e progettato la mano bionica, che ormai credo che sia esposta al MoMA, come elemento digitale di modernità prevenzionistica, che ha progettato tutte le attrezzature di cui si sono avvalsi i nostri atleti nelle Paralimpiadi, con quei grandi successi che hanno portato all'Italia. Noi dobbiamo essere orgogliosi di tutto questo. Quindi, concludo, prevenzione. Gigi diceva investire in prevenzione, in difesa dei lavoratori, non è un costo, ma un investimento. Hai ragione. Noi ogni anno, per riparare i danni, perché voi sapete che se una persona si infortuna va risarcita, se ha una inabilità va data una rendita, se c'è un morto bisogna pensare ovviamente agli eredi. Giusto? Ci costa 45 miliardi all'anno. Tre punti di prodotto interno loro. Dove pensate se noi riuscissimo a dirottare anche una quota minima di questa risorsa esposta in risorsa exante per prevenire. E io insisto nel Consiglio d'Amministrazione dell'INE nel dire il rapporto fra prevenzione e ricerca è un rapporto circolare. E io insisto nel dire agli ingegneri quando progettate un macchinario pensate a quella Luana Dorazio stritolata dal macchinario perché è stato tolto un riparo per fare più in fretta un campionario se tu mi progetti un macchinario nel quale se togli il riparo si blocca la macchina abbiamo salvato quella vita umana. La progettazione deve intervenire non solo per aumentare la produttività ma contemporaneamente per salvaguardare l'integrità psicofisica della persona che è addetta a quella lavorazione. Agire in questo senso un impatto culturale nuovo insegnare ai ragazzi delle scuole medie delle scuole superiori il valore della prevenzione i rischi e la bellezza che il lavoro comporta sempre. Ecco io credo che questo sia il grande segnale e io dico anche che se l'INAIL riscuote delle risorse da voi imprenditori e ogni anno mettiamo da parte un miliardo e mezzo di euro e quei soldi 34 miliardi sono depositati alla tesoreria perché diminuiscono il debito dello Stato a me non sta bene perché è una tassa occulta nei confronti delle imprese. Io vorrei che quello che l'INA incassa venisse restituito alle imprese virtuose che certificano di non avere morti infortuni incidenti sul lavoro perché devono pagare premi inferiori. Questo deve essere un comportamento saggio ed equilibrato e credo che in questa direzione si possa lavorare. Iniziative come queste sicuramente possono dare una mano per fare cultura. Buon lavoro. ho spostato la borsa perché non vorrei che fosse un oggetto contundente a rischio. Grazie grazie a Cesare Damiano peraltro quando tu citavi tre punti di PIL mi pare dicevi pensate a proposito della prevenzione ed è un discorso che ci riporta ad altre storie sciagurate di questo paese in parallelismo pensano al dissesto idrogeologico a tutto quello che si potrebbe fare per la prevenzione anche lì arriviamo dopo a dover parlare di costi terribili in vite umane di costi spaventosi per il nostro territorio quando anche lì si potrebbe fare tutto prima ante ma questo è un altro discorso